Che cosa desideri per la tua isola? Con questo motto il nuovo partito Sardegna al centro 2020 si presenta ai Sardi, un movimento centrista che ha come obiettivo quello di coinvolgere tutte le persone che si sono allontanate dalla politica. Primo appuntamento quest'oggi a Sassari alle 19 al teatro comunale, per poi spostarsi l'indomani a Cagliari alle 10 nella sala congressi della fiera campionaria. Un evento unico organizzato in due tappe, programmate a poche ore l'una dall'altra. Al centro del progetto politico lanciato da Antonello Peru insieme a Stefano Tunis e ispirato da tanti amministratori locali e sindaci ci sono le esigenze dei cittadini e dei territori per renderli finalmente protagonisti nelle scelte e nelle decisioni. In questo percorso abbiamo incontrato Stefano Tunis con Sardegna 2020 con cui ne abbiamo subito trovato una grande intesa e una e una convergenza sui temi di cui la Sardegna ne ha bisogno. E così è nata Sardegna al centro 2020. Noi vogliamo che al centro ci siano i temi e ne proponiamo un nuovo modello di sviluppo basato su dei punti di forza che sono quelli della realizzazione di tutte quelle infrastrutture utili in tutti i settori a partire dalla mobilità sostenibile che collega le zone interne con tutti i territori, dal turismo all'agroalimentare perché noi abbiamo idee chiarissime e le mettiamo a disposizione e le condividiamo con chi vuole realmente impegnarsi per la propria terra.